Il più grande pilota del passato, presente e futuro Un uomo in grado di ammaliare con le sue imprese un certo Gabriele D'Annunzio Un pilota in grado di sconfiggere gli uomini Adolf Hitler Signore e signori, questa è la storia del grande, grandissimo, immenso Tazio Nuvolari Preparatevi, perché state per ascoltare un racconto incredibile Una storia commovente, talmente assurda da faticare quasi a credere che sia vera Una storia che vi farà capire perché Nuvolari è considerato universalmente il pilota più forte della storia dell'umanità Tazio Giorgio Nuvolari nasce in provincia di Mantova il 16 novembre del 1892 Le sue origini udite udite sono umili, ultimo di quattro fratelli, papà Arturo agricoltore Mentre la mamma Elisa una donna di casa A dirla tutta non è che se la passino malissimo, però non sono né ricchi né poveri Diciamo che l'agricoltura li ha resi benestanti ecco Come per molti futuri campioni, anche in casa di Nuvolari, lo sport di famiglia Però uno sport diverso Il papà infatti era un ottimo ciclista, mentre lo zio Giuseppe era addirittura un fenomeno Pluricampione italiano, andava fortissimo anche all'estero E Tazio vuole molto bene allo zio, ammira quei successi E già da piccolo sogna di diventare come lui, ma in altri sport Nel 1904 infatti assiste per la prima volta a una gara automobilistica E che gara tra l'altro Perché sul circuito di Brescia Tazio vede sfrecciare dei fenomeni come Felice Nazaro Vincenzo Lancia Esatto, proprio il fondatore della Lancia Il grande aviatore Alessandro Cagno Quello fu un vero colpo di fulmine A soli 12 anni Tazio si innamora del mondo dei motori Pensate, è talmente impallinato che una notte del 1905 al chiaro di luna Ruba la macchina di suo padre per andare a farsi un giro Sempre in quel periodo poi lo zio Giuseppe gli insegna anche come si guidano le moto Cosa che tra l'altro gli riusciva abbastanza facile Però, come tanti, forse tutti gli uomini nati in quel periodo Tazio conosce la guerra Già, perché arriva la prima guerra mondiale E Nuvolari viene arruolato per guidare nell'esercito le ambulanze Ma beh, insomma Perlomeno si trova a fare quello che gli piace, giusto? Eh, in realtà, mentre guidava le ambulanze Succede qualcosa che potrebbe rovinare per sempre la sua carriera Tazio ha un incidente Mentre sta guidando un mezzo dell'esercito E si sa, nelle forze armate Specialmente nella prima guerra mondiale Quando sbagliavi, i superiori non andavano leggeri Pensate, l'ufficiale che era con lui Disse questa frase Tanto semplice quanto devastante Lascia perdere le automobili Non fanno per te Pensate solo se Nuvolari Avesse realmente creduto a questa frase Tutta la storia del motorsport sarebbe cambiata per sempre Per fortuna questo non avviene E finita la guerra Tazio vuole entrare nel mondo delle corse E nel 1920 finalmente ottiene la licenza di pilota motociclistico Non prima però di aver corso in macchina con una di Atto Sì, sono tutti nomi che probabilmente non avete mai sentito Però siamo cento anni fa Però in tutto questo c'è un problema Sì, perché il tempo intanto è passato E Tazio ha già 28 anni Come può pensare di essere competitivo iniziando così tardi? Tazio onestamente questa cosa non interessa Lui vuole solo correre Quello che sarà, sarà E il debutto arriva quindi nello stesso anno La prima gara la correrà in moto a Cremona Senza però riuscire a finirla E allo stesso tempo un po' come facevo io Decide di correre anche con le macchine Perché no? Nel 21 vince la sua prima gara La Coppa Verona di regolarità E pensate che correva con una a Ansaldo Preparato ovviamente per le corse, no? No, era la macchina di famiglia Cioè lui è andato a far la gara con la macchina di tutti i giorni E ha vinto Però ricordatevi bene quello che ho detto all'inizio Origini umili Il motorsport è costoso E quindi Tazio a questo punto si trova a dover compiere una scelta difficilissima Dovrà decidere se correre in moto o in macchina A questo punto la risposta già la sapete No? Nuvolari, famosissimo per le auto Avrà scelto di correre in macchina, no? No Nuvolari decise di iniziare a correre con le moto Questo per un motivo molto semplice La moto costava molto meno Mi ricorda qualcuno La sua carriera però non decolla Sembra infatti che nel 22 abbia corso solo tre gare in moto Riesce comunque a vincere una gara In sella a un Harley Davidson Gli torna anche il pallino delle auto Quindi si fa anche una gara con l'Ansaldo Ma nonostante non decolli Nel 23 si rilancia Quando a Busto Arsizio In sella alla sua Norton Vince una gara locale Sì, all'epoca non è che c'erano i circuiti Si correva un po' dove capitava Grazie a quella vittoria Il mondo delle ruote inizia a notarlo E quindi pensate un po' Finalmente arriva il suo primo contratto da professionista Pensate, fu ingaggiato dall'americana Indian Che gli offrì una sella come compagno di Amedeo Ruggeri Ovviamente l'idea era che Nuvolari facesse il secondo pilota Cosa che ovviamente lui non fece Quando Nuvolari si trovava davanti Cioè molto spesso Non faceva mai passare il compagno in squadra Disobbediva agli ordini E semplicemente non c'era storia Nuvolari era più veloce E non ne voleva sapere di star dietro Indovinate quindi cosa succede a Nuvolari? A piedi! Cioè viene scaricato dal team Tazio non ha una squadra Non ha una moto E quindi? Fortunatamente arriva in suo aiuto un vecchio amico Un certo Deo Chiribiri Proprietario dell'omonima azienda Chi... Chiri che? Anche noi senti da Chiribiri La Chiribiri era un'azienda automobilistica e aeronautica di Torino Che lavorò dal 1911 al 1928 E pensate che fu la prima azienda a realizzare un prototipo di aereo Interamente costruito in Italia da una sola azienda Tra l'altro si trattava di un monoplano Che per l'epoca era una cosa abbastanza innovativa Forse un po' troppo innovativa dato che l'aereo si schiantò al primo decollo Però insomma costruirono un totale di 15 aerei Per poi chiudere nel 1913 E dedicarsi interamente all'automobili Quindi grazie all'amico Deo Tazio trova una macchina con cui correre Una bellissima Bianchi Tipo 18 E immediatamente qua la storia inizia a farsi veramente folle Tazio mette in mostra tutto il suo talento e la pazzi agonistica In una corsa che definire allucinante è poco Siamo nel 1924 e Tazio si iscrive al primo circuito automobilistico del Tigullio In Liguria Il percorso è infernale Sono 11 km di strade strettissime Tornanti saliscendi strapiombi Raga all'epoca erano fuori di testa Cioè facevano veramente delle piste dovunque Bastava unire dei pezzi di strada e voilà Ecco la pista Non solo in quelle gare di fianco ti portavi il meccanico Perché se rompevi si scendeva, si riparava e si ripartiva Tazio non ha paura e inizia a spingere come un pazzo Il suo meccanico nel frattempo di fianco era terrorizzato Stava lì con il rosario in mano Tazio tira come un pazzo Talmente al limite che in molti punti arriva lungo e staccata E rischia quasi di finire giù dalla montagna Tazio massacra quella macchina Le chiede troppo E a pochi chilometri dalla fine una gomma si sfila dal cerchione L'esito è devastante Con la macchina che uscendo di strada si rivalta I danni sono tanti Ma Tazio sopravvissuto non si dà per vinto Si rivolge al suo meccanico e gli dice Dai forza dammi una mano a sistemare la macchina Veloce cosa stai aspettando Ah Ah Il meccanico era svenuto Aspettate ma non si arrende Nuvolari chiede aiuto agli spettatori presenti Per raddrizzare la macchina Risistemarla E Tazio riparte Senza sedile del guidatore Con una ruota scoppiata E Senza volante Sapete come guidava Ho afficcato una chiave inglese nel piantone E usava quella per sterzare E in quelle condizioni Nuvolari dopo essere ripartito Taglia il traguardo In prima posizione Vince la gara Con la macchina conciata così E col meccanico di fianco Ancora svenuto Io vorrei una macchina del tempo Per ritornare indietro e vedere come ha fatto Questa fu una delle cronache ufficiali della gara Nuvolari giungeva ugualmente primo Nonostante procedesse sui cerchioni Senza sospensioni E con la carrozzeria distrutta Gli spettatori videro passare sotto i loro occhi Qualcosa di incredibile Nell'abitacolo di guida Niente era al suo posto Tazio guidava senza seggiolino E in sostituzione del volante Adoperava una chiave inglese In un angolo Riverso Giaceva il meccanico Coperto di fango E olio Iniziate a capire Di che cosa si sta parlando Questo è solo l'inizio Della follia Sempre nel 1924 Corre qualche altra gara Con una Kiribiri Tipo Monza Stiamo parlando Da un mostro Da 1593 cc E la mirabolante potenza A 2200 giri Di 12 cavalli Raga Ai tempi gli standard erano quelli Ma ci pensate? Per darvi un'idea La pit bike Con cui ho corso io Ne ha 14 cavalli Tazio con questa macchina In due occasioni Trionfa E una di queste in particolare Si rivela un evento Molto speciale Al circuito del Savio Nuvolari Fa la conoscenza Di un altro pilota Guidava un Alfa Romeo Di bell'aspetto Ben piazzato E sarà l'unico pilota In grado da dargli filo Da torcere Per tutta la gara Era un giovane uomo Che arrivava da Modena Un tale Di nome Enzo Ferrari Pensate che lo stesso Ferrari Descrisse l'incontro con Nuvolari Con queste parole Il mio primo incontro con Nuvolari Risale al 1924 Fu davanti alla Basilica Di Santa Pollinare in classe Sulla strada Ravennate Dove avevano sistemato i box Per il secondo circuito del Savio Alla partenza Non avevo dato troppo credito A quel magrolino Ma durante la corsa Mi avvidi che era L'unico concorrente In grado di minacciare La mia marcia Ma la stagione Non finisce qua Perché a Nuvolari Ovviamente mica bastava Solo vincere in auto Rispolvera infatti La sua Norton E compie due imprese Sensazionali Sui circuiti di Mantua E Cremona Trionfa con la sua 500 Contro piloti Che correvano con il 1000 Correrà poi altre gare Altre vittorie E grazie a questo Viene ingaggiato Come pilota motociclistico Dalla Bianchi Quello che però succede dopo Supera ogni immaginazione Vi giuro Quando ho saputo questa cosa Ho fatto fatica a crederci Tazio si trova a Monza Per dei test In vista del Gran Premio Motociclistico Delle Nazioni Del 25 E quello stesso giorno All'autodromo C'è anche l'Alfa Romeo Che sta affrontando La tragica scomparsa Di Antonio Ascari Morto in un incidente Al Gran Premio da Francia Mentre era primo La squadra quindi Ha convocato i piloti Che si sono candidati Per occupare quel volante Rimasto libero E secondo voi Nuvolari Poteva non candidarsi? Ovviamente no E quindi una volta finiti I test in moto Va lì e chiede agli uomini Dell'Alfa Se possono fargli provare La macchina All'epoca era così Oggi non puoi più farlo Detto fatto Nuvolari si mette alla guida E inizia a girare Come un pazzo Pensate va talmente forte Che si avvicina subito Al record di Ascari Dell'anno prima Peccato che Una cosa che imparerete a capire Nuvolari esagera Lui era sempre oltre al limite Esce di pista E si ribalta Questa volta le conseguenze Sono drammatiche Tazio ha numerose costole incrinate E contusioni dovunque Pensate le ferite più dolorose Sono date dal filo spinato Contro il quale si è schiantato E che gli ha lacerato la pelle In moltissimi punti Alla macchina distrutta E al dolore atroce Si aggiunge poi Un altro grande problema Nuvolari conciato così Non potrà correre Il Gran Premio delle Nazioni In programma 12 giorni dopo Vero? Beh Se di nome fai Tazio E di cognome Nuvolari Tutto diventa possibile Sentite qua Contro il parere di tutti Medici in primis Tazio si presenta Sulla greve di partenza E chiede di essere ammesso Cosa che Gli viene concessa Ovviamente partendo dal fondo Cioè non ha fatto le qualifiche La scena è incredibile Nuvolari è ricoperto Di fasciatura In tutto il corpo E i suoi meccanici Devono letteralmente Prenderlo E piazzarlo sulla moto Perché da solo Non riusciva a salirci Tutti si chiedono Cosa ci faccia lì Perché una mummia Stia correndo su una moto Tazio è Indemoniato Fa una rimonta Pazzesca Sorpassa uno Due Tre Quattro avversari Fino a che Non finiscono le moto Tazio Li ha passati tutti Quella mummia Di nome Tazio Cognome Nuvolari Ha vinto il gran premio Delle nazioni Diventando campione europeo Della classe 350 Ah E la gara E la gara era sul bagnato Quella performance Al limite dell'umano Ovviamente gli vale Rinnovo con la Bianchi Anche per l'anno successivo Tommasini però Visto come era andata L'ultima volta Gli pone una condizione Molto rigida Tazio Sei un fenomeno Ti vogliamo con noi Però Facciamo così Non tocchi più Nessun'automobile Ok Pensate che strano il mondo Oggi se corri in macchina Ti dicono Non guidare la moto Che ti fai male A Nuvolari Che guidava la moto Gli ha detto Non guidare le macchine Così nel 1926 Nuvolari correrà solo in moto L'anno però non inizia bene Tra scarsi risultati Problemi Ma soprattutto In Germania Arriva un incidente Bruttissimo Tazio esce di pista A causa della nebbia E i soccorritori Lo trovano privo di sensi E pieno di fratture In Italia Giunge la notizia terribile Tazio Non c'è più Nuvolari è morto Facendo quello che amava Correre Alla Bianchi Ovviamente sono sconvolti E uno dei dirigenti Sale subito su un treno Diretto verso la Germania Per capire che cosa sia successo E proprio mentre si trova Nella stazione di Stoccarda Il dirigente Si trova davanti un fantasma Davanti a lui Tazio Nuvolari In persona Ma non era morto No Era stato dato per morto Ma in realtà non era morto Anzi Dopo l'incidente Le sue condizioni Sono migliorate rapidamente Consentendogli addirittura Di tornare in Italia Certo L'incidente è stato Veramente brutto E la convalescenza Sarà molto lunga Tazio quell'anno Fu costretto a saltare Il Tourist Trophy Aspetta Stiamo parlando di Nuvolari Cioè secondo voi Uno ha corso una gara Bendato da Mumbia Può aspettare Per salire in moto Torna a correre Vince la corsa Dell'Ario E da lì non si ferma più Con 4 vittorie di fila Nonostante tutti i dolori E gli acciacchi E Nuvolari si laurea Campione italiano assoluto Va talmente forte Che la gente Inizia a soprannominarlo Il campionissimo Ma tutto questo successo Non gli basta E siamo solo all'inizio Perché Tazio Sogna di vincere anche con le quattro ruote Però vi ricordate no? Bianchi ha detto Uè No macchine E infatti proprio ascoltando Quello che gli disse Bianchi Nel 1927 Nuvolari partecipa Alla mille miglia Facendo ovviamente Incazzare Quelli da Bianchi Ma il problema Non fu solo questo Perché Nuvolari Decise di correre Con una Kiribiri Un po' come se Leclerc Va a fare la 24 ore di Le Mans Con la Lamborghini Ma Nuvolari Non cede Forse avrete capito Che personaggio era Lui vuole correre E quindi chi sarà a cedere? La Bianchi Che gli dice Ok fatti sta mille miglia Però la fai con la nostra macchina Ok? E vabbè Ok Tazio quindi corre con una Bianchi Tipo 20 E arriva solo decimo E evidentemente A Nuvolari piaceva provocare Che gli pagava lo stipendio Decise quindi Di comprarsi una Bugatti Nuova fiammante Per partecipare ad altre gare Arriva terzo Un ottimo risultato Se non fosse che nel frattempo Si è strappato la schiena E indovinate un po' Pochi giorni dopo Deve correre a Verona In moto con la Bianchi Non può mancare Perché già in Bianchi Sono abbastanza arrabbiati Figurati se manca E quindi Tazio si presenta in griglia Imbottito di morfina E indovinate un po' Stravince La cosa incredibile di Nuvolari Era che Sembrava non sentire il dolore Sembrava non soffrire Aveva una sola cosa in mente Vincere Con qualunque cosa Sia che avesse due o quattro ruote Lui continuava a correre E a vincere Tutto questo chiaramente Inizia a fare notizia In Italia tutti parlano di lui E delle sue grandi imprese E pensate un po' Anche all'estero Il suo nome inizia a circolare E stiamo parlando degli anni 20 Non è il mondo di oggi Connesso e portata di click Ma Tazio non vuole solo vincere Non vuole solo essere conosciuto Tazio vuole diventare Una leggenda del motorsport E alla fine del 27 Gli viene un'idea Perché non fondare Una squadra tutta sua? Detto Fatto Nel 1928 Nasce la Scuderia Nuvolari Tazio fa le cose in grande Pensate che compra Quattro Bugatti Due di queste auto le vende ai piloti Che sono entrati nella squadra E una di queste Se le aggiudica Achille Varzi Memorizzate questo nome Perché sta per iniziare Una storia incredibile Varzi era il suo acerrimo rivale Nelle corse in moto Ma allo stesso tempo Era anche un grande amico di Tazio E cosa c'è di meglio Che condividere la propria passione Con un amico avversario? Tutto Infatti i due litigano subito Cioè quando metti due galli Nello stesso pollaio In poco tempo Gli accordi economici saltano E Tazio si ritrova Senza un pilota cliente Così per racimolare soldi Inizia a vendere macchine Vendere di tutto Alfa Fiat Scat Bianchi E corre con qualunque macchina Ma la vera esplosione Di Tazio nel motorsport Arriva nel 1930 Aspettate ma come vera esplosione Cioè Finora cosa ha fatto? Quello che ha fatto Finora Nuvolari è niente Sentite qua Dopo l'incidente di Monza Ve lo ricordate Quello in cui ha demolito L'Alfa Romeo? Ovviamente l'Alfa Però nel 1930 Un tragico evento Cambia totalmente le carte in tavola L'Alfa di nuovo Perde uno dei suoi piloti migliori Il nobile Gastone Brilliperi La squadra si trova in difficoltà E i vertici Deciscono quindi Di dare una seconda opportunità A Nuvolari E indovinate un po' Chi si ritrova come suo compagno di squadra? Achille Varzi Il suo nemico numero uno Già alla prima gara Nuvolari compirà un'impresa Passata alla storia Qualcosa che si confonde Tra realtà e leggenda Una delle cose Che l'ha reso ancora più famoso L'occasione è alla Mille Miglia Una gara in cui le Alfa Romeo Si presentano imbattibili Basti pensare che al traguardo Le prime quattro auto Saranno tutte delle Alfa La gara però non ha storia La vittoria è questione Tra Varzi e Nuvolari Varzi si trova in testa Con un vantaggio importante Circa a sette minuti Tazio però è uno schiacciasassi E inizia a spingere 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 Per colmare questo gap Qui arriva la storia incredibile La leggenda infatti narra Che Nuvolari raggiunse Varzi Nel cuore della notte E a quel punto Per sorpassarlo Mise in atto Quella che viene chiamata La beffa dei fari spenti Si narra infatti Che Nuvolari E il suo copilota Una volta raggiunto Varzi Spensero i fari Perché? Semplice Questa mossa aveva lo scopo Di illudere Varzi Che Nuvolari dietro Avesse avuto un problema E che quindi Si fosse dovuto fermare Ok ma Ma come faceva a guidare Di notte al buio? Semplice Seguiva le luci Di quello davanti Wow Ok però a un certo punto Avrebbe dovuto sorpassarlo no? In realtà no Gli bastava arrivare Dietro di lui Per vincere la gara Perché Nuvolari Era partito 10 minuti Dopo Varzi E quindi se avesse finito Poco dietro di lui Avrebbe vinto E quindi Dato che si calcola Quanto tempo ci hai messo Arrivando gli dietro di poco Nuvolari avrebbe vinto Quindi Nuvolari Si fece tutta la gara Dietro a Varzi Per arrivare poi Sul traguardo E vincere Vabbè facile Col cazzo Nuvolari Si sentiva tradito Da Varzi Varzi non andava battuto Andava stracciato Davanti a tutti E così Lo fece Nuvolari Passò Varzi E vinse la corsa Qui La storia diventa leggenda Alcune testimonianze Tra cui quello Dello stesso Varzi Hanno smentito Dicendo che il sorpasso In realtà è venuto Più tardi di giorno E Varzi l'ha fatto passare Perché tanto Aveva già vinto Quindi verità Bugia Che disse Nuvolari Nuvolari Non si espresse mai Magari consapevole Che un po' di mistero Sicuramente Gli avrebbe fatto bene Già le cose Che ho detto all'inizio Basterebbero per raccontare Una storia incredibile Ma se Nuvolari Viene ricordato come Il più grande della storia Un motivo ci sarà Vi sembra assurdo Ma questo era solo l'inizio Dopo quell'impresa folle Della mille miglia Tazio riceva una telefonata Pronto Tazio Senti Ho appena fondato una squadra Ti andrebbe di correre per me Penso che potremmo fare Grandi cose Dall'altra parte della cornetta C'era Enzo Ferrari E quella scuderia Era la Ferrari Che correva Con l'Alfa Romeo Sì Perché all'inizio Ferrari non costruiva macchine Correva La scuderia Ferrari È nata molto prima Della Ferrari La nuova avventura Inizia col botto Tazio si presenta Al via della Trieste Opicina A bordo di un Alfa Romeo È una sorta di crono scalata Una gara talmente veloce Che viene chiamata La Monza in salita Ma Nuvolari Non si fa intimorire Anzi Qui entra nella leggenda Guida come un pazzo Come solo lui sapeva fare E addirittura A un certo punto Compie una manovra folle Ascoltate qua Il circuito era sterrato E sapete come affronta Una delle curve più difficili Un pilota normale Con le auto dell'epoca Arriva Frena Gira E poi riparte Nuvolari no Nuvolari arriva alla curva Colpo di sterzo Macchina di traverso Giù tutto E se la fa tutta di traverso Quella manovra Segnerà la storia del motorsport Perché da lì Il mondo intero capirà Che mettere le macchine di traverso In certi casi Ti fa andare più forte Questa è la base del rally Questo è lo spirito del drift Tazio Nuvolari aveva inventato Il traverso E pensate che piccolo il mondo Io ho provato il drift Ho fatto un video Nicola Tesini Ha una grande scuola di drift Qua in Italia E il padre di Tesini Sapete chi era? Era il meccanico Di Tazio Nuvolari Pensate che piccolo il mondo La vittoria di Nuvolari Fu schiacciante Tazio e il suo copilota Trionfano Facendo segnare anche Il record di velocità media 95 km orari Con quelle macchine Sullo sterrato Con questa impresa Nuvolari regala La prima vittoria nella storia Alla scuderia Ferrari Ma Tazio ovviamente non gli basta Vince anche le due successive Cronoscalate Ormai tutti sanno Chi è Nuvolari Le squadre lo osannano Gli avversari lo temono E nello stesso anno Vince anche al Touristrophy Con la Ferrari Touristrophy Quello che si fa con le moto Sì Una volta si correva anche con le macchine Per restare in tema di moto Il 1930 sarà un anno storico Perché Nuvolari dirà addio Alle due ruote A 38 anni Si è sfasciato tutto Prima di dire addio Però si fa qualche altra garetta La stravince Giusto per dire a tutti Sono il migliore Nel 31 Tazio continua a dominare Vince sette gare Ma ciò che rese importante Quell'annata Fu la dimostrazione del suo genio Qualcosa in più rispetto agli altri Durante una gara a cronometro Ha un piccolo problema tecnico Cioè Passa troppo veloce Su un passaggio a livello Avete presente no Con quel saltino Che fa la macchina Quando passate sopra i binari Ecco Tazio l'ha preso talmente forte Che il colpo Gli ha spezzato la molla Dell'acceleratore Quando spacchi l'acceleratore Eh la gara è finita no Sì Non per Nuvolari Tazio continua la gara Utilizzando frizione Freno E volante Sì E l'acceleratore? Ecco L'acceleratore Lo azionava al meccanico Di fianco a lui Molto semplicemente Si era tolto la cintura L'aveva passata dentro il cofano Attaccata direttamente al motore E con la cintura Apriva e chiudeva La farfalla del motore Con questa follia Nuvolari Non solo riesce a finire la gara Ma la vince Dando 32 secondi al secondo E sapete chi era il secondo? Un certo Enzo Ferrari Che quasi non crede a quello che ha visto In tutto questo Nuvolari ha 40 anni E non si vuole assolutamente fermare 1932 Su 16 gare Ne vince 7 assolute E 5 di classe Tutte con la scuderia Ferrari Ormai Nuvolari viene chiamato Il mantovano volante Le sue imprese Sono talmente grandi Che arrivano alle orecchie Di un certo Gabriele D'Annunzio Esatto Quel Gabriele D'Annunzio Che studiamo a scuola Pensate che D'Annunzio Consegnò a Nuvolari Un regalo Una piccola tartaruga d'oro Con una dedica speciale All'uomo più veloce L'animale più lento Pensate il genio poetico Nel fare un regalo del genere Nuvolari è sinceramente colpito Dalla considerazione Che ha D'Annunzio di lui E quel regalo lo commuove Gli piace talmente tanto Che quella tartarughina Diventerà il suo amuleto E il suo simbolo La porta sulla sua inseparabile Maglia gialla Che usa per correre La fa stampare sulla carta da lettere La fa dipingere sul suo aereo privato Ecco perché il logo di Nuvolari È una tartaruga E non finisce qui Nuvolari viene convocato a Roma Dalla persona più influente di quel periodo Un certo Benito Mussolini Che vuole assolutamente incontrarlo I due si conoscono Mussolini quasi da fanboy Si fa fotografare tutto fiero Al volante dell'Alfa Romeo numero 8 Del pilota più veloce d'Italia La carriera di Nuvolari Continua a crescere E il 33 forse è l'anno più stupefacente Con la squadra di Ferrari Vince 6 gare Tra cui la 1000 Miglia E la 24 ore di Le Mans E la cronaca di quella 24 ore Fu qualcosa di assurdo Nuvolari e il suo compagno Guidano come dei pazzi Si portano al comando E addirittura hanno due giri di vantaggio La macchina però è danneggiata Il palafango è rotto Il serbatoio perde Le riparazioni gli fanno perdere tempo E quindi poi di nuovo giù A rimontare Fino a che il serbatoio Inizia a perdere sempre di più E qui il lampo di genio dei meccanici Come lo ripariamo? Con una gomma da masticare usata E funziona Nuvolari vince la 24 ore di Le Mans In rimonta con soli 9 secondi di vantaggio Tutto questo con un chewing gum Che gli tappa il serbatoio E qui a un certo punto Arriva un colpo di scena inaspettato Tazio si convince che se tornasse a correre in proprio Guiderebbe delle auto migliori E guadagnerebbe di più Così all'improvviso lascia la Ferrari Si compra una Maserati La fa modificare Vince tre gare Si schianta fortissimo Torna a correre Rivince il Tourist Trophy Insomma la carriera di Nuvolari sta facendo così 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 Sta salendo sempre di più Prima o poi questa ascesa si fermerà E il 1934 sembra proprio l'anno della fine In campo infatti scendono le case tedesche Con Mercedes e Auto Union Che tirano fuori dei mostri da 500 cavalli Di un livello tecnologico mostruoso Nuvolari non può competere Semplicemente le sue disponibilità economiche Non lo fanno essere competitivo Con le sue auto e la sua squadra A peggiorare le cose Arriva anche l'ennesimo grave incidente Tazio finisce in coma Ha sospette fratture Un mese dopo si ripresenta in pista Con la gamba sinistra ancora rotta Alla quale gli viene fatta una fasciatura Per permettergli di correre Però ricordiamoci una cosa Non è più un ragazzino 42 anni Tazio non riesce a vincere Ma è solo questione di tempo Anche perché nel 1934 Succede anche qualcosa Che fa in bestialina Nuvolari Qualcosa che probabilmente Gli dà una carica ulteriore A voler fare sempre di più Sì perché pare infatti Che Auto Union Fosse interessata a ingaggiarlo Per l'anno successivo Tanto da fargli fare addirittura alcuni test Sembra quasi fatta Finché un pilota di Auto Union Si oppone E l'accordo salta Sapete quale fu il pilota Che prese il posto di Nuvolari? A chi levarsi Il suo nemico numero uno Pensate che roba È come il cattivo Dei cartoni animati Ciclicamente si ripresenta Tazio è ferito nell'orgoglio Il suo avversario numero uno L'ex amico Da cui si è sentito tradito Che gli ha soffiato L'auto migliore Questa storia Non può finire così Ed ecco che nel 35 Compie forse L'impresa più grande Di tutti i tempi Il 35 Sarà l'anno In cui Nuvolari Sconfiggerà Niente poco di meno Che Adolf Hitler Momento Momento Hitler Gran premio del Nürburgring Nordschleife Un evento importantissimo Gli spettatori sono tantissimi Tutti tedeschi Molti ufficiali nazisti E Adolf Hitler in persona Venuto a vedere le auto tedesche Orgoglio nazionale Triunfare sulle italiane E in effetti Sulla carta Non c'è storia Nuvolari infatti si presenta In gare di partenza Con un Alfa Romeo P3 Della scuderia Ferrari Aspetta Scusa Ma non aveva Abbandonato la Ferrari Sì Però alla fine del 34 Hanno fatto pace Nuvolari ha firmato Un nuovo contratto Quindi nel 35 Corre con la Ferrari Ok Ma in tutto questo C'è un problema Un problema chiamato Cavalli Le Alfa 265 cavalli Le Union 375 Le Mercedes 430 La Germania Voleva massacrare tutti Anche in pista Già Ma non avevano fatto i conti Con Tatsu Nuvolari Che già prima della gara Fa capire a tutti Di che pasta è fatto Come? Beh al mattino Prima della gara Vede che la bandiera italiana Presente sul circuito Era tutta rovinata E consumata E quindi dice Oggi me lo sento Vinco io Trovatemi una bandiera tricolore Ok Tatsu Bra Bravissimo Eh ma scusate Zop Malandato Vecchio Con un'auto che va alla metà Dove vuoi andare? Eppure i tedeschi dimostrano Di avere ancora paura di lui Tanto che il capo della Mercedes Tenta di stroncarlo psicologicamente Addirittura dice Nuvolari Ha solo un glorioso passato Il presente e il futuro Appartengono ai piloti del Führer Per Nuvolari Quello è un vero affronto E lui vuole Deve dimostrare Di non essere finito La corsa è epica Con già nei primi giri Nuvolari Che riesce ad agguantare La terza posizione E un fulmine Tutto quello che perde Nei rettilinei E lo riguadagna Nelle curve dell'inferno verde E pensate un po' Al nono giro Supera anche L'ultima Mercedes Portandosi al comando Di una gara massacrante Nove giri Con quelle macchine Lì Però per Nuvolari Non c'è mai niente di facile A metà gara I primi quattro piloti Si fermano i box E qui arriva Una tragedia sportiva La pompa per il rifornimento Della macchina di Dazio Si rompe E i meccanici Sono quindi costretti A far benzina Con una tanica E un imbuto Facendo perdere 40 secondi A Nuvolari Quando rientra in pista È solo sesto Un disastro Ed è proprio in questo momento Che il demone della velocità Si impossessa di Nuvolari Che inizia a spingere Ancora più forte di prima Prendendosi dei rischi incalcolabili E dopo qualche giro Ecco che riconquista La seconda posizione Ma ormai si trova A un minuto di ritardo Dal primo Un minuto E dove vuoi andare? Al giro successivo Il gap si riduce a 10 secondi Sono ancora troppi però Stando così le cose Nuvolari Non ce la può fare In testa alla corsa C'è Manfred von Prauschisch Un pilota Dalla guida molto aggressiva E proprio il suo stile Già nel corso delle prove Aveva messo in allarme Il responsabile del Continental Che fornisce le gomme Che aveva avvertito Gli uomini Mercedes Ehi Guardate che quello lì Brucia le gomme Con tutti quei cavalli Che avete Rischiate di non finire la gara Fategli fare i due cambi gomme Perché se no Ebbene Proprio nelle battute finali La profezia si avvera La posteriore di von Prauschisch Cede Ma il tedesco continua a spingere Non conosce il distacco dal secondo E non vuole subire una beffa Negli ultimi chilometri Una beffa che arriva e come Quando quella gomma Scoppia La macchina è zoppa Rimane in pista a malapena E Nuvolari Una furia Raggiunge e supera von Prauschisch È fatta Nuvolari è primo Ma nessuno lo sa Perché l'Inferno Verde È lungo 20 e passa chilometri E a quell'epoca Non c'erano le dirette tv Tutti quindi sul traguardo Si aspettano l'arrivo Di una vettura argentata Al primo posto E quando si vedono arrivare Un'alfame rossa Tutti pensano che sia un doppiato Ad accorgersi per primo Di chi fosse quell'auto È un famoso giornalista Della Gazzetta dello Sport Che subito inizia a gridare Ma è Nuvolari È Nuvolari Sugli spalti Cala un silenzio glaciale Uno degli ufficiali nazisti Presenti sbiacca E si rimette in tasca Quel foglio Con il discorso già pronto Per celebrare I successi delle auto tedesche I tifosi sugli spalti Però si dimostrano Essere dei veri appassionati sportivi E dopo lo sbigottimento iniziale Ecco che parte Un applauso fragoroso Mentre viene hissata La bandiera tricolore In cima a tutte A Tazio Viene consegnato Il trofeo Intitolato a Hitler In persona In quella che fu A tutti gli effetti Una disfatta tedesca Pensate che Tazio Quasi scompare In quella corona Allora del vincitore Sì perché tutti pensavano Che avrebbe vinto un tedesco E quindi quella corona Era fatta a misura di tedesco Non a misura di un italiano Malandato Nel 36 Nuvolari ha 44 anni E conciatissimo È una leggenda Ma lui vuole continuare a correre E questa testardaggine Lo porta a un altro Terrimile incidente Si rompe due vertebre E tutto ammaccato Soffre come un cane Nonostante questo Si trascena in macchina Per essere presente al via E finisce la gara in ottava posizione Con dolori indescrivibili Continua a correre E a vincere E i tedeschi dietro Muti E la grandezza di Nuvolari Non si ferma solo in Europa Ma sparca oltreoceano E una delle sue imprese in America Avrà un impatto mediatico Devastante in Italia Sì perché Nuvolari Andò anche in America E vinse a New York Con 8 minuti di vantaggio sul secondo E sapete quanto era il primo premio? 32 mila dollari Del 36 Che erano tanti soldi La vita però Ti riserva delle brutte sorprese E nel 37 Mentre sta attraversando l'Atlantico Per andare di nuovo A correre la Coppa Winterbelt in America Tazio riceve una bruttissima notizia Giorgio Suo figlio Il primo genito E' morto ad appena 19 anni In ospedale In seguito a una brutta malattia E proprio in quella corsa americana Lo stesso Tazio Rischierà anche lui di morire La sua alfa prende fuoco E Tazio si lancia giù Dalla macchina in corsa Tornato in patria Avrà un altro incidente In un'altra gara E questo ha proprio tutto il sapore Di essere l'inizio della fine Altro anno Altre gare Altri dolori Con la sua alfa Che di nuovo prende fuoco Lui di nuovo si getta dalla macchina in corsa Ma questa volta non gli va bene Come la prima E si ritrova in ospedale Piero di ustioni e ferite Riuscite a contare Quante ne ha passate E proprio durante quell'ircover Lui di nuovo Tazio si chiede Sarà veramente questa L'ora di dire basta Ma che Come la fenice Risorge dalle ceneri Vola ancora in America Per provare delle monoposto a Indianapolis E non gli piacciono Torna quindi in Italia Sconsolato Senza un contratto E proprio quando sta davvero Per appendere il casco al chiodo Ecco che arriva Quell'offerta irrinunciabile Auto Union Sta cercando un pilota Con cui sostituire Bern Rosmeyer Pilota con una storia assurda Che poi vi racconterò E questa volta Questo matrimonio si concretizza Senza nessuno in mezzo Nuvolari è ufficialmente Un pilota Auto Union E gli servono solo tre gare Per capire quella macchina E arrivare a vincere Trionfando davanti a Monza Al suo pubblico Che lo osanna Per il fenomeno che è Si ripete anche a Donington Dove però rischia Per l'ennesima volta la vita Sentite cosa è successo Durante le prove Gli attraversa la strada un cervo Nuvolari non può evitarlo Lo colpisce Lo ammazza E per poco non finisce giù da un ponte E sapete che fine fece a quel cervo? La sua testa fu imbalsamata Regalata a Nuvolari Che se lo appese nel suo studio Arriva il 39 Nuvolari ancora al tempo Di vincere una gara con Auto Union Finché il mondo intero Viene sconvolto Da quello che sarà L'evento più distruttivo Di tutto il secolo La seconda guerra mondiale La Germania Ha altro a cui pensare Il mondo intero Ha altro a cui pensare E nella carriera Di Tatsu Nuvolari Compare finalmente La parola Fine Fine della settima stagione Sì perché è tipo Il trono di Spadano Ha talmente lunga la sua storia Che appena finita la settima stagione Adesso inizia l'ottava E infatti nel 46 Finita la guerra Ricomincia alle gare Nuvolari Ricomincia a correre Ma è un essere umano anche lui E ormai appare Veramente invecchiato E stanco Pensate che addirittura È arrivato a un punto In cui l'odore del gas Delle auto Gli dà la nausea E come se non bastasse La vita Gli regala un'altra tragedia Anche il suo secondo figlio Ad appena 18 anni Muore Anche lui per malattia Nuvolari è sempre lì Sempre aggrappato a quel volante Come se non avesse altro Per sopravvivere Qualcuno pensa che correre Gli serva per superare il dolore Altri invece pensano Che Tazio quel dolore Non lo voglia scacciare via E che correndo Sempre al limite Sia semplicemente cercando Di volarsene via anche lui In questa disperazione Arrivano altri tre vittori Sempre frutto dell'immensa classe Che l'ha contraddistinto E ricordiamoci Che ha 54 anni E' una sfilza infinita Di ferite Cicatrici Incidenti E fratture Ormai Tazio Non ce la fa più E' stanco E' provato Nel corpo e nello spirito Ma anche se non vince Continua a dimostrare Perché è il migliore Quello che riesce a fare Alla mille miglia del 47 Sarà qualcosa di epico Si presenta al via Con una piccola Cisitalia 202 Un'auto cabrio E sapete che fa? Domina Nonostante gli attacchi di nausea Nonostante i dolori Nonostante la fatica E nonostante un guasto All'accensione Nelle fasi finali Tazio Domina Finché non inizia a diluviare Piove talmente tanto Che l'abitacolo Della sua auto cabrio Si allaga Ed è costretto quindi A fermarsi Perdendo una vittoria Che sarebbe stata memorabile Chiude comunque secondo Il che dimostra Ancora una volta Di chi stiamo parlando Purtroppo nel 48 La sua salute è peggiore I suoi polmoni Ormai sono devastati Dall'immensa quantità Di gas di scarico Che ha dovuto enelare Negli anni E il suo animo E' tormentato Dalla perdita dei figli Tazio è sempre più solitario E i medici che lo curano Decidono di mandarlo in ritiro In un convento Sul lago di Garda In modo tale Che possa almeno respirare Un'aria migliore Rispetto a quella di Mantova Tazio però Non riesce a star fermo Ha bisogno di adrenalina Ha bisogno di fare Quello che ama O forse ha bisogno Di trovare la morte Senza aspettare Che arrivi lentamente Con la malattia E così Eccolo nuovamente Al via della mille miglia 56 anni suonati Beh In realtà Tazio si presenta La mille miglia Da spettatore Per assistere Guardare gli amici E colleghi Finché qualcuno Si avvicina E gli fa una proposta E quel qualcuno Non era mica una persona qualunque Era un tale Enzo Ferrari Senti Ho una Ferrari libera Ti va di correre? Non preoccuparti Sfasciala Vai al massimo Nessuno potrà batterti E secondo voi Che cosa può aver risposto Tazio? Senza pensarci due volte Si mette al volante E come al solito Domina Pensate che arriva ad avere La bellezza di mezz'ora Di vantaggio sul secondo Purtroppo la sua macchina Non ce la fa A reggere lo stile Di guida estremo Di Nugolari E inizia letteralmente A perdere i pezzi per strada Si rompe il gancio del cofano Tazio si ferma Stacca il cofano E riparte Poi esce di strada E si rompono i supporti Del sedile del copilota E allora Via anche quello Poi perde anche un parafango La vettura è seriamente danneggiata Ma Nugolari continua a spingere Come un ossesso Finché a un certo punto La rottura di una balestra Pone fine a quel sogno Nonostante il ritiro Tazio ne esce A testa altissima Ancora una volta E l'abbiamo detto Cento volte in questo video Dimostra di essere Una spanna Sopra tutti Subito dopo il ritiro Tazio è devastato E' talmente stanco Che si reca in una chiesa vicina E chiede un letto Per riposarsi A prendere lui il copilota Pensate un po' Arriverà Enzo Ferrari Che per tirare sul morale di Tazio Gli dice Coraggio Sarà per il prossimo anno Ma Nugolari è cosciente Che un prossimo anno Non ci sarà Almeno Non al volante Di un'auto da corsa Ferrari Giornate come queste Alla nostra età Non ne tornano di molte Dopo una vita dedicata alle corse Tazio Nugolari si spegne Il 13 agosto 1953 Nonostante gli ultimi anni Passato lontano dai riflettori Nessuno l'ha dimenticato A dargli l'ultimo saluto Si presentano 50.000 persone E siamo nel 53 Non c'era internet Tazio non è stato solo un uomo Un pilota È stato un vero asso Un simbolo del motorsport italiano Che stava nascendo in quegli anni E che deve tanto a quel pilota Forse è il migliore di sempre Come disse un tale Ferdinand Porsche Nugolari è il più grande pilota del passato Del presente E dell'avvenire Tazio riposa al cimitero monumentale di Mantua Con indosso la divisa che indossava sempre Ad ogni gara Maione giallo Pantalone azzurri E gilè in pelle marrone Accanto a lui riposa anche il suo volante preferito L'oggetto simbolo di un'esistenza vissuta sempre al limite Sulla sua tomba è incisa la frase Correrai ancora più veloce per le vie del cielo In numeri Nuvolari è stato un pilota da 353 gare 105 vittorie assolute 77 di classe Tra auto e moto 7 volte campione italiano E 100 volte autore del giro più veloce in gala Tutto questo quando in mondiali ancora non esisteva Tazio è il simbolo di una nazione intera Ho pensato che fosse bello chiudere questo video con le parole di Achille Vazzi su Tazio Nuvolari Parole che hanno un significato immenso soprattutto vista la rivalità che c'era tra i due Nuvolari è stato il miglior corridore di tutti i tempi Non poteva essere definito un maestro Ma soltanto un artista del volante Un maestro potrebbe insegnare L'arte invece non si insegna Un maestro potrebbe insegna